Ciao a tutti, sono Madonna Caricato e frequento la classe 50C del liceo scientifico Cosimo De Giorgi di Lecce. Ho deciso di partecipare al premio Asimov perché mi sembrava una bellissima opportunità per unire la matematica, che è una disciplina che io adoro, con la lettura e la scrittura. Il libro che ho scelto è Matematica d'Evasione, perché solitamente la matematica viene vista come una disciplina astratta, lontana dalla realtà e soprattutto non si collie la sua bellezza. In realtà con questo libro si comprende come essa possa coinvolgere davvero chiunque, come essa soprattutto faccia parte della nostra realtà e come la matematica possa rappresentare un momento di evasione. Lo stiamo capendo anche in questa difficile situazione che stiamo vivendo, in cui ci troviamo chiusi in casa e la matematica, anche se per pochi minuti, per poco tempo, ci permette di isolarci da tutto e di concentrarci solamente sul problema da svolgere. Consiglio davvero la lettura a chiunque, anche chi non è appassionato di matematica in realtà poi ne scoprirà la bellezza. E soprattutto consiglio di partecipare al Premio Asimov perché è una bellissima opportunità, una bellissima esperienza.